Continua la rincorsa del Napoli verso un titolo ormai annunciato e continua una Serie A in cui le inseguitrici vanno a rilento, pareggia l'Inter contro la Sampdoria e adesso, incredibilmente, solo l'Inter sta appiccicata a quel concetto che spesso esprimiamo qua di due punti di media a partita. Sta succedendo tutto nel campionato di Serie A, il Napoli che corre velocissimo e le inseguitrici che non riescono a inanellare serie positive. Ne parliamo, come sempre, questa settimana andando in giro un po' per l'Europa e per il mondo per capire anche cosa sta succedendo negli altri paesi, cosa sta succedendo in questa settimana che ci riporta alla Champions League. Io li ho visti così, andiamo! Buongiorno, buona settimana a tutti e buon campionato ma anche buona Champions League. Torna il torneo calcistico più prestigioso del mondo e torna con un'Italia che va a misurare le proprie forze. Milan, Inter, Napoli, attese da tre sfide. Io il mio pronostico l'ho fatto, credo che alla fine Milan e Inter verranno eliminate da Tottenham e Porto e voglio vedere anche il Napoli contro l'Aintracht. Secondo me è una partita più difficile di quello che si crede per i napoletani. Andiamo poi dentro i temi della settimana. Vi ricordo comunque che se volete continuare a leggerci e a sentirci, ogni settimana il sabato pubblico Fubolitics, la mia newsletter di calcio, sport, business e giornalismo sportivo. E poi durante la settimana approfondimenti e altri temi rilevanti. Ovviamente siete sul mio canale YouTube, quindi se non siete ancora iscritti, fatelo. Campanellina per rimanere sempre aggiornati e like al video se vi è piaciuto. Insieme, chiaramente, a qualche commento per continuare a analizzare insieme i fatti di campo e non. Andando in ordine questa settimana voglio iniziare dal Real Madrid che diventa campione del mondo. Lo dico perché spesso vi do una visione personalissima su quelle che sono le competizioni. Tanti video ho fatto sulla Superlega. E il tema di questo campionato del mondo per club è un tema sempre ricorrente ed attualità. È evidente che per come è pensato oggi questa sorta di Coppa Confederale che va a pescare squadre qui e là in giro per il mondo non abbia nessun senso. C'è una distribuzione del talento chiaramente disomogenea nel mondo del calcio che porta sempre i club europei a vincere. L'ultimo dieci anni fa fu il Corinthians che vinse contro il Chelsea il torneo diventando campione del mondo. Ma è chiaro che è un titolo puramente, per così dire, virtuale quello di campione del mondo. Chi vince la Champions League ormai nel 99% dei casi vince anche l'altro titolo. Io sono favorevole al Mondiale e non ho mai paura dei doppioni. Mondiale per club che secondo me andrebbe fatto ormai ogni quattro anni. Io sono per le due finestre di pausa, non tanto per i nazionali ma proprio per le competizioni diciamo così organizzate dalla FIFA e dall'UEFA che potrebbero entrare sia con le nazionali che altro e il Mondiale per club secondo me ha un senso, avrebbe un senso come cosa ricorrente ogni quattro anni immaginiamocelo 24 squadre, almeno 12 europee e poi si va avanti sulla traccia da quel punto in avanti. Perché davvero oggi c'è una distribuzione iniqua del talento in giro per l'Europa e per il mondo. E soprattutto abbiamo visto ad esempio i Seattle Sounders partecipare a questo torneo e andare fuori subito con Lala Lee. Insomma è chiaro che oggi come oggi una squadra di MLS gioca alla pari con una squadra africana o con una squadra asiatica, però poi per il resto c'è un valore superiore di un torneo che però davvero lascia il tempo che trova se non viene aperto a più partecipanti europei. Comunque è un titolo mondiale, con buona pace dell'UEFA la FIFA attribuisce i titoli mondiali però cerchiamo di dare un senso anche a quelli che sono i titoli che vengono attribuiti. La settimana così strutturata come è adesso è semplicemente una totale perdita di tempo. E a proposito di Real Madrid voglio anche fare un riferimento al Barcellona che in settimana trova il Manchester United in Europa League e che vince per la settima volta 1-0. C'è un ragionamento secondo me dentro la ripresa di un Barcellona che chiaramente non è il Barcellona del decennio precedente però per la prima volta il Barcellona, o meglio, il Barcellona fa un record sette vittorie quest'anno per 1-0 uguali a un record dell'86-87, 95-96, 96-97. È abbastanza inusuale insomma per il Barcellona vincere così tanto per 1-0 ed è evidente che però dentro un processo di rinascita dentro un processo di riconsolidamento questo Barcellona ha bisogno di vincere le partite per tornare a sentirsi un Barcellona vincente. E dentro questo Barcellona brilla la stella di Pedri con un dato che mi ha sorpreso su tutti degli ultimi 15 tiri nello specchio fatti Pedri ha segnato 10 volte quindi un dato impressionante sette gol comunque in questa stagione Bellingham ne ha fatti 10 ma è chiaro che il giocatore del Barcellona così come Bellingham rappresenta il centrocampista modello per il futuro nel calcio europeo. E facendo invece riferimento al calcio francese è apprezzabile quel che sta succedendo con la frenata del Paris Saint-Germain ma soprattutto la vittoria di Igor Tudelo e del suo Olympic Marsiglia nella Coppa di Francia che ha eliminato il Paris Saint-Germain questo per dare un senso ai tornei anche francesi dove evidentemente il Paris Saint-Germain la fa da padrone ma stiamo a vedere perché comunque l'Olympic Marsiglia è squadra che può arrivare fino in fondo con risultati importanti anche se credo che il Paris Saint-Germain abbia il viatico spianato da qui alla fine. E ultimo salto domani sera c'è Arsenal-Manchester City. Una settimana fa avevo detto che praticamente consideravo chiuso il campionato campionato che sembra essersi invece riaperto e ora è interessante il dato statistico sulle probabilità calcolate da Opta che dice comunque che c'è davvero pochissima differenza tra City e Arsenal ad oggi l'Arsenal ha un 49-18% di possibilità di vincere il titolo il City 48-94 quindi solo uno 0,2% di differenza sostanziale ed è quindi un qualcosa davvero da controllare e da monitorare perché c'è un dato su tutti secondo me che è questo il ritorno di Ruben Diech e Laporte ad una condizione fisica accettabile due giocatori che hanno giocato quest'anno solo due partite insieme potrebbe essere la chiave del futuro per il Manchester City per ritrovare una solidità e ritrovare risultati continuativi che naturalmente al City servono se vuole battere l'Arsenal e in questo senso è interessante come nelle ultime 17 partite con i due in campo il City ne abbia vinte ben 15 ecco il ritorno dei due centrali nella logica di un calcio di equilibrio di un calcio comunque che deve anche badare al sodo è la miglior notizia per il City in vista della sfida con l'Arsenal e ricordiamo anche quello che ha fatto Pev Guardiola 184 vittorie su 250 partite meglio di Klopp, Mourinho, Ferguson, Wenger e Benitez che sono coloro che lo seguono nella speciale classifica di chi ha vinto maggiormente nelle prime 250 partite in Premier League una percentuale molto importante del 73,6% praticamente Pev Guardiola nelle prime 250 partite ne ha vinte 3 su 4 è un dato secondo me difficilmente davvero difficilmente anche per il futuro eguagliabile e chiudo parlando della nostra Serie A che chiaramente ha dei temi che passano in secondo piano facendo soprattutto questo tipo di valutazione questa settimana il Napoli continua ad andare alla grande trova in Quarascheglia un giocatore unico in questo momento in Europa 9 gol e 9 assist giocatore assoluto che segna e fa segnare nessuno come lui a livello europeo in questo mix di fondamentali gol e assist appunto ed è un Napoli naturalmente che chiude e che andrà in carrozza ma non è un Napoli modello per le squadre di prima fascia è un Napoli modello sportivo sicuramente di altissimo livello ma su cui non bisogna mai dimenticare qual è la proiezione sui 5 anni e qual è la proiezione di lungo periodo è un Napoli che è ritornato in Serie A nel 2007 che sta in Serie A da 15 anni che ogni tanto fa questi esplua come il Napoli saliano dei 91 punti ma è un Napoli che ci dice oggi la forza di questo Napoli su questa stagione ma anche la debolezza strutturale e strategica del nostro calcio nel lungo periodo la Champions League questa settimana arriva in proposito proprio per farci capire quanto pesiamo al cospetto dell'Europa abbiamo un vantaggio che dietro a noi ci sono le francesi che sono assolutamente lontanissime ma dobbiamo dimostrarlo e proprio il Napoli con l'Eintracht Francoforte dovrà dimostrare e dovrà prendere punti importanti per tenere incollate le tedesche in chiave ranking direte voi il ranking tutto sommato conta zero dico io no se vogliamo capire il reale la reale portata e non parlare per sentito dire o non parlare per sensazioni o non parlare con la pancia del tifoso che si sente sempre insoddisfatto quando guarda la sua squadra il ranking ci offre a mio modo di vedere un particolare spaccato molto importante per capire cosa realmente esprime un movimento calcistico e se abbiamo a cuore e io lo ho a cuore il movimento calcistico italiano partite come Napoli Eintracht Francoforte sono partite evocative e partite molto importanti per capire quale è la reale portata del nostro calcio in questo momento fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti vi ringrazio per essere stati in mia compagnia io li ho visti così a presto a presto